Allora Sindaco, vuole farlo lei un bilancio del 2016 per Otranto? Un bilancio abbastanza intenso, tanti progetti portati a termine in questo anno e che in qualche modo chiudono la programmazione che ci eravamo dati dieci anni fa circa quando ci siamo insediati al governo della città. Pochi altri ormai impegni che restano da concludere, il piano urbanistico generale che ci auguriamo di adottare nei primissimi mesi del 2017, il piano comunale delle coste e questo interessantissimo progetto di recupero di tutto il circuito dei fossati cittadini. Per il resto invece un gran lavoro realizzato in città in questi anni che ha guardato alle diverse esigenze, esigenze di riqualificazione di alcuni spazi, rifunzionalizzazione anche di alcune aree della città e poi ovviamente anche alle esigenze di una comunità tutta in un periodo in questi quasi dieci anni che è coinciso con una crisi internazionale pesante che non avevamo vissuto negli anni precedenti e devo dire che la città tutto sommato ha saputo reagire molto bene, ha anche in qualche modo migliorato le sue posizioni in campo turistico, una immagine cresciuta molto nel tempo, anche le presenze lo testimoniano con una crescita costante in questi anni, in queste stagioni turistiche e ci auguriamo che si possa continuare anche a registrare questo apprezzamento e non solo nella stagione estiva, ci troviamo in questo periodo, nella fine anno che per noi coincide con il periodo dell'Alba dei Popoli e quindi mi auguro che come negli anni precedenti anche quest'anno vengano apprezzate le nostre località per vacanze non solo balneari. Per questo ci siamo anche preparati ad ospitare al meglio gli ospiti, gli turisti che vorranno venire a trovarci proponendo un intenso programma in queste serate, in queste giornate di fine anno e poi due interessantissimi concerti che interesseranno la piazza del 30 e del 31 sera, il 30 con questo concerto stupendo di Fiorella Mannoia e il 31 con artisti vari e DJ set che appunto ci accompagneranno ad attendere la mezzanotte e poi l'Alba, questa prima Alba d'Italia che come ogni anno sorge qui ad Otranto, nel punto più ad est, più ad oriente d'Italia e vi aspetteremo tutti al Faro di Palacia in questo luogo magico.